vai dentro anche te ok di qua Frank andiamo dentro Marco andiamo dentro Luca dai Edoardo dai Edo arbitro ti prende in giro Arnaut ti prende in giro dai 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 Frank ancora lì non fallo non fallo ecco lì l'abbiamo presa bravo dai 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 dentro lì dentro bravo si che ci arrivi te Matteo noi 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 solo piano Frank piano Frank fallo fallo prendi la palla gioca dai 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 sito bravo non abbiamo palloni Giorgio Angolo, angolo!